Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà l'arrivo di una nuova perturbazione sull'Italia, soprattutto a partire dal pomeriggio e andrà a interessare inizialmente il nord, il medio e il totireno, domenica poi si sposterà verso il centro-sud. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese, se ne va una prima perturbazione ma a partire dalla mattinata prime nuvole, Liguria, Medio e Alto Tireno e poi nel pomeriggio la nuvolosità si farà un po' più estese e compatte in tutto il nord e sulle regioni tireniche e come vedremo tra poco torneranno anche le precipitazioni. Diamoci proprio un'occhiata e vedremo che dal pomeriggio torneranno appunto delle piogge da prima al nord-ovest a cominciare dalla Liguria e dall'alta Toscana, in estensione poi a fine giornata tutto il nord e ripeto domenica si sposteranno verso il centro-sud. Quindi in definitiva ci attende un sabato che partirà l'insegna anche di ampie zone di sereno in tutto il paese ma poi il nubino aumenta al nord e sul medio e alto Tireno e appunto verso sera ecco arrivare precipitazioni diffuse in queste zone, torna anche la neve sull'arco alpino mediamente oltre gli 800.000 metri, meglio sul medio adriatico al sud dove per tutto il giorno resisteranno ampie schiarite e lì anche con temperature molto miti altro che i giorni della merla all'estremo sud sfioreremo anche i 20 gradi. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.